E' stato definito il programma per la festa dei Santi Medici 2020. Le celebrazioni, ovviamente, a causa dell'emergenza sanitaria, si terranno in modalità molto diverse. Dovremo, ad esempio, rinunciare alla tradizionale processione ottobrina. Ma ciò, assicurano dalla Fondazione Santi Medici, non precluderà la dimensione della festa. Il programma sarà dedicato alla riflessione sull'enciclica Laudato Si, a cinque anni dalla sua pubblicazione, accogliendo l'invito di Papa Francesco, fatto alla Chiesa e al mondo, il grido della terra e il grido dei poveri non possono più aspettare. Si inizierà con la novena in preparazione alla festa liturgica del 26 settembre e si concluderà, come di consueto, con la terza domenica di ottobre, il giorno 18, con l'eucaristia presieduta dall'arcivescovo di Bari-Bitonto, Monsignor Francesco Cacucci. In preparazione alla terza domenica di ottobre sono stati previsti alcuni incontri di carattere culturale e liturgico rivolti a bambini, giovani, adulti e lavoratori. Alcune celebrazioni saranno trasmesse in diretta streaming. In nome del Padre, in il Dio, in il Espirito Santo... Grazie. Grazie. Grazie.